bentornati sul canale bentornati sul canale buon inizio di settimana a tutti anche oggi anche oggi dobbiamo pazientare e dovrete pazientare per parlare di inter che oggi peraltro tornerà in campo in un amichevole a prima del dal nel ritiro di malta e parlare di mercato tante voci oggi no come ogni buon lunedì che si rispetti tante voci attorno alla squadra di simone inzaghi e dicevo dovrete dobbiamo dovremo insieme pazientare perché anche oggi si parla di del caso juve quello ribattezzato rinominato caso juventus che è molto più di una diceria ormai è qualcosa di parecchio parecchio concreto e come come qualcuno temeva invece come qualcuno spicava la situazione molto delicata molto più delicata di quella che non sembrava almeno in una fase embrionale anche se qualcuno aveva tentato e ha cercato di mettere un po tutti un po tutti in guardia e non far finta di nulla come purtroppo è italian style è di oggi è di questa mattina l'intervista a radio anche lo sport programma di radio rai dell'avvocato mattia grassani noto esperto di diritto sportivo e grassani conferma conferma quello che avete sentito anche su questo canale negli ultimi giorni ossia che il rischio per la juventus è molto alto e che quella dell'ammenda è una delle possibilità la più dolce e ma non la più probabile forse non la più probabile ragionevolmente la non la più probabile perché ci sono scenari veramente cupi per il club bianconero e vi vado a leggere quello che ha detto stamattina l'avvocato mattia grassani credo che sia la più grave inchiesta subita nella storia della juventus anche più greva più grave di quella di calciopoli l'indagine abbraccia una serie di irregolarità che non ha precedenti la juventus rischia molto di più che un'ammenda o una penalizzazione se le accuse chiaramente dovranno essere accertate qui si entrò proprio nel campo nel campo di del racconto e della narrazione che che vi ho fatto fino a fino a ieri c'è stata una fetta di comunicazione una fetta di stampa una fetta di addetti ai lavori che come come non ha come se non abbia come se non avesse voluto vedere no come se avesse voluto fare come le tre scimmie no non vedo non sento e non dico e però poi per quanto tu possa raccontare una bugia bene in maniera convincente per quanto tu possa nascondere bene la polvere sotto al tappeto prima o poi quella bugia verrà mascherata prima o poi quella polvere verrà a galla e sta venendo a galla tutta sta venendo fuori tutto il marciume tutto quello che è stato in fatto in maniera non propriamente corretto poi ci sarà bisogno chiaramente di una giuria che vada ad indicare la gradazione di questo errore quindi qui non stiamo facendo processo e condanna qui stiamo esplicitando i fatti e se un esperto di diritto scolastico sportivo come grassani ormai abbiamo imparato a conoscerlo purtroppo mi viene da dire da una città una ventina d'anni parla in questi termini vuol dire che qualcosa di grave davvero grave è stato è stato è stato commesso in caso di ottenimento di iscrizione a campionato con alterazioni di documenti ci può essere l'esclusione dal campionato la retrocessione all'ultimo posto e la revoca dello scudetto questo è virgolettato di grassani di questa mattina radio rai non lo dice lo il scemo di turno lo dice un avvocato che si occupa di queste di queste vicende credo giunge grassani che siccome la giustizia sportiva ha la necessità che i tempi siano veloci in tempi brevi lo sappiamo rispetto alle altre all'altra branchia della giustizia ordinaria il procedimento si concluderà sicuramente il termine della stagione corrente e saranno subito applicate le sanzioni è un bel guaio un bel guaio per non solo quindi per la juve passata ma anche per la juve presente non a caso non a caso la uefa qualche giorno fa aperto anch'essa un'indagine aperto un fascicolo perché qualora appunto le le responsabilità della juve fossero accertate diretto indirette comunque sia parliamo di dirigenti di altissimi dirigenti facenti parte di questa di questa situazione si va da andrea agnelli presidente al direttore sportivo all'ex direttore sportivo diciamo così paratici all'attuale direttore sportivo cherubini vice presidente nedved c'era dentro anche arriva bene parliamo di situazioni gravi ma dal momento in cui vengono richiesti domiciliari la situazione non può non essere grave e mi stupisco di chi oggi si stupisce di chi oggi si stupisce mi stupisco non più di tanto in realtà perché appunto come raccontato spesso sappiamo come vanno determinati flussi canalizzazioni di notizie di informazione e quindi forse c'è un ritardo grave c'è c'è in questa in questa situazione ma oggi è l'ulteriore conferma che la juventus non solo rischia sanzioni ma rischia fattivamente anche la retrocessione e la sottrazione dei titoli acquisiti vinti sportivi non solo non parliamo di cose di situazioni alleatorie oppure di situazioni poco tangibili parliamo effettivamente di campo perché perché poi queste sono dinamiche sono vicende che si riverberano fisiologicamente in campo non possiamo pensare che siano dei fumetti lì nell'aria che vagano nell'aria e che poi nulla hanno a che vedere con la realtà sportiva e da lì nasce appunto secondo me la volontà di dimettere tutto il consiglio di amministrazione in modo tale da provare l'ultima difesa possibile del club legittima legittima da parte della proprietà però verranno comunque sia accertate delle responsabilità e qui si capirà tanto perché appunto partiamo comunque dalla stagione dell'ultimo scuetto della juventus del 2019 2020 quello vinto con un punto in più dell'inter di conte ma questo mi interessa marginalmente a me interessa soprattutto che sia fatta chiarezza sulla juventus ma non solo perché chiaramente la juventus qui c'è dentro con tantissimi capi d'accusa l'abbiamo letto l'abbiamo spiegati ma non è solo la juventus ci sono determinati affari ci sono determinate determinati incastri che coinvolgono anche altre società e quindi è corretto far ricrezza su tutto lo spettro della serie a e non solo c'è dentro anche qualche qualche società di serie cadetta per veramente tentare di quantomeno tentare quantomeno tentare di ristabilire un po l'ordine e la legalità poi da ieri abbiamo chiuso la domanda chi ha interesse affinché venga punita la juve ma non solo ecco la domanda è sempre quella e resta resta valida speriamo che non si ragioni alla punta l'italian style ma che si ragioni non in senso giustizialista ma in senso di legalità sarebbe la normalità ma mi rendo conto che tra tifo tra interessi e tra politica spesso questa parola ha un senso molto molto vuoto un saluto